Un incidente fuori del consueto, quello avvenuto nella mattinata di giovedì 21 aprile tra Buara Polesine e Mar di Mago, nel comune di Rovigo, all'incrocio tra le vie Volturno e Aspromonte. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, un trattore utilizzato per lo sfalcio dell'erba sul ciglio stradale ha accidentalmente tranciato e abbattuto con la lama utilizzata per questa operazione un palo Telecom. Sul posto, immediato intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco, sia per mettere in sicurezza la situazione che per gestire la viabilità.